è stato abbandonato qui fuori l'ufficio di don roberto a frignano il piccolo francesco questo il nome che gli hanno dato i suoi soccorritori il bimbo ride piange mangia ed è un miracolo che sia vivo che qualcuno si sia accorto di lui nella sagressia della chiesa di santa maria dell'arco poteva anche non esserci nessuno per fortuna c'era don roberto che ha sentito il vagito ed è corso nel cortile della chiesa non giudichiamola né condanniamola l'appello lanciato su facebook dai sacerdoti di frignano al sapore del perdono non bisogna lanciare sentenze su una donna che ha scelto di donare il suo bimbo al mondo negandolo a se stessa tante le ipotesi su questo gesto ma una sola certezza il dramma di non poter prendersi cura del proprio bambino don roberto che preferisce non apparire dinanzi le telecamere racconta come è stato ritrovato il piccolo domenica sera alle 18 e 35 subito dopo la santa messa ho sentito il vagito di un bimbo all'inizio pensavo che fosse un video che il mio confratello il vice parroco donna antonio stesse vedendo su internet per motivi pastorale quando glielo chiesto lui la sua risposta è stata io internet cioè il computer proprio spento quindi minimamente siccome stavo a colloco una parrocchiana che dovevamo fare una telefonata il vagito ha continuato e quindi ci siamo precipitati subito fuori e abbiamo avuto la bella sorpresa di trovare il piccolo qui nel suo ovetto con la una borsa con il corredino le bottiglini il latte